...che sono già sentite, risentite, ricondendole, facendo come si fa con la pasta, no? Quando avanza, il giorno dopo la si fa saltare con un po' di olio e la si rimangia, anche se magari un livello un po' più basso ci avrebbe consentito di fare ciò. Non ci stupiamo più di niente ormai. Assolutamente no. Altra ricorrenza della giornata di oggi, prima di ricordare che dopo avremo una telefonata, altra ricorrenza della giornata di oggi, 1969, in data odierna, veniva pubblicato in Inghilterra Lady Samantha, che era il primo album di Elton John. E allora noi ci ascoltiamo, Crocodile Rock, proprio di Elton John, e poi rientra appunto la prima telefonata. Aggressiosa notte. Sì. Ad aggiungere alle ricette e ai proverbi una nuova rubrica, la frase più scema della settimana. Da votare tra i tifosi con premio alla migliore segnalazione. Top 10 del mese dell'anno, ho visto che striscia si può permettere di rifilare tapiri su tapiri, aggiungo io, agli interisti, perché non istituziamo il premio per la prostituzione intellettuale d'oro. Dice, da consegnare in pompa magna la mia frase della settimana, anzi questa settimana se la giudica Riccardo Signori del Giornale, che ha scritto l'Inter ha sconfitto il Milan nel derby facendo solo un tiro in porta. Insomma, quantomeno eccessivo. Un po' eccessivo, sicuramente un po' eccessivo. Non so se ad abbinare, però salutiamo Maura, che torna da noi, torna con noi dopo una sola settimana, premiata per questa mail. Infatti, sono emozionata da questa attenzione. Sì, da questa attenzione. Settimana scorsa ci avevi, in realtà sono quasi dieci giorni fa, ci avevi, ti avevamo contattato in realtà per una ricetta. Ricetta, ci eravamo lasciati dicendo che ti contatteremo a breve per parlare un po' di calcio, visto che la ricetta magari non rappresentava al meglio il tuo tifo per l'Inter. E allora ti richiamiamo quest'oggi. Tu mi citi questa frase, io Maura però ti vorrei rispondere con il prono tweet di Massimo Mauro che ha proposto il derby con il risultato di 4 a 1 per il Milan, dopo aver proposto Inter Parma 1 a 1, come pronostico. Ah sì, l'ho visto, l'ho visto su qualche blog, ma pensavo fosse una battuta, invece l'ha scritto davvero. Sì, sì, pensa che i milanisti si lamentano sempre di Massimo Mauro. Adesso ti dico questo, perché io ho la passione di leggere anche i blog altrui, oltre che di ascoltare con grande attenzione le telecroniche di Mauro Suma, per, come dire, mia passione personale. Non sei l'unico. Sì, no, è un grande fautore, è un enorme fautore di questa teoria, quindi sai, noi seguiamo anche quello scrivono loro e dicono loro, perché sono anche divertenti a volte. Però scusami, Massimo Mauro, Mauro Suma, io sono una Maura finalmente normale. Tutto torna, vedi che tutto torna. Ci bilanciamo un po'. Ci bilanciamo, tutto torna. Come hai vissuto questo derby? Ma benissimo. Benissimo. Come sempre capita con l'Inter, quando io mi preparavo a vederli con grande speranze, è successo di tutto. Quando invece uno si agita un po', perché l'Inter fa sempre queste cose, no? Non fa mai quello che ti aspetti. In questo eravamo tutti un pizzichino così preoccupati, e invece lei ci ha dato il meglio di sé. E quindi bisogna... Ecco, io ho sempre paura di quando partiamo favoriti, perché in realtà non è mai il nostro momento più... Sì, sicuramente questo profilo che dici tu ha senso, perché bisogna dire che non è il partito dei favoriti. Quando siamo arrivati l'anno scorso al primo derby, dal triplete, ci siamo arrivati un po' in pompa magna, no? Il Milan non ha fatto una grande partita, però ci ha messo l'anima, il cuore, è riuscito a portare a casa con 1-0, anche finendo la partita in 10 per l'espulsione di Abate, che come al solito non è che si confermi un grande protagonista dei derby. Sfortunato è proprio dire poco. In quel caso lì, devo dire, ci avevano messo veramente l'anima. Io credo che questa volta ci avevamo messo l'anima noi, perché ci tenevamo veramente tanto, anzi ci abbiamo tenuto più di loro, ci sono arrivati meno... credendoci di meno, forse per la settimana che hanno passato a patto sì, patto no. Però, non lo so. Ibra si è molto arrabbiato comunque, per questa cosa di patto sì. Sì, aveva anche detto su Facebook che vediamo stasera chi governa la città per poi essere sbertucciato, credo da chiunque sulla rete, ha avuto, non so, centomila contatti sulla sua pagina, con la gente che gli postava delle foto, le sciarpe dell'Inter, le peggio cose. Poverino, non è stata una grande... Chissà se l'amministra lui la pagina, magari no, magari un fake, magari un falso, me lo auguro, perché non lo vedo, Ibra, che ne dicano, insomma, lui che scrive libri addirittura, insomma, non me lo vedo a scrivere su Google. Io però posso dirti una cosa su Ibra, che a me il Ibra fa un po' pena, al di là... Addirittura? Sì, perché comunque nessuno lo dice, ma credo che sempre istituendo un premio per la peggior figura al mondo fatta da un calciatore, temo che la sua andata al Barcellona, poi uno può fingere che non sia così, può andare al Milan in pompa magna, però la storia sua del... Io non so, credo, adesso magari voi siete più bravi di me nella storia del calcio e di figure peggiori ce ne sono state, non così costose, magari. No, un po' sfortunato, comunque. Ma oggi è nel trend dello sfortuna. Ebbè sì, perché hai ragione. Sfortuna. C'è questo che va via per vincere la Champions. La vincere la Champions League, però io sono convinto che i calciatori a un certo punto vogliono cambiare aria, quando vogliono cambiare aria utilizzano una perifrasi, no? Quella di Ibra è stata veramente una brutta figura, più che altro sulla scelta della perifrasi, cioè voglio vincere la Champions, perché lui secondo me voleva andare comunque via. Si era... Il suo procuratore aveva sentito profumo di guadagni facili, perché la percentuale probabilmente l'avrebbe preso, no? Su quelle cifre. Su quella cifra, lui guadagna anche su quello. Conveniva a tutti cambiare maglia, lui ha tirato fuori la storia da Champions League, perché quello che lui ha sempre detto in camera carità, tisse che lui all'Inter si fosse trovato bene come mai, come in nessun altro posto. Poi... Penso di sì, si vedeva anche che aveva... Si trovava parecchio bene, al di là di quel gesto famoso la curva. ...poi per iniziare un lento distacco. Lui è uno molto trofio, oggi hanno scritto delle cose su di lui, ma lui ha detto a me i tifosi dell'Inter non mi interessano, che mi hanno insultato, mi hanno detto, non è un problema per me, io penso solamente ad aver perso il derby. Lui è così, insomma. In realtà è anche la sua... Perché lui è un vincente, è uno che ha vinto tanto in campionati, tanti campionati, perché lui è uno che ci tiene moltissimo. Poi, secondo me, per vincere la Champions League bisogna essere un po' più a un mini squadra, lui non lo è tanto. Sì, comunque lui, secondo me, adesso al di là di tutto, è una persona... Per le sue capacità, eccetera, eccetera, temo potrebbe finire la carriera non avendo conquistato ciò che si aspettava di avere. Sicuramente non la finirà al Milan, Maura, te lo dico oggi. Ho avuto... Sì, lo dicono tutti. L'ho visto uscire dagli spogliatoi domenica sera e ho avuto proprio questo profumo mentre mi passava davanti. Non so perché, ma proprio l'ho sentita. Ti ha dato l'idea di quello che vuole cambiare casa? Che vuole ritinteggiare le pareti? Si teneva la pancia, mettiamola lì, insomma. Mettiamo che si teneva la pancia, ecco, insomma. Allora può darsi che al trovo sia un po' più fortunato, insomma. Chi lo sa, chi lo sa, dipende da dove va. Perché sai, alla fine l'età inizia a essere quella che è, andare da una parte all'altra, poi io ho imparato nel calcio, perlomeno guardando le partite, giocandone qualcuno a livelli infimi e vedendo questi grandi campioni inquadrati da vicino che alla fine quello che fa la differenza è crederci. Questi ragazzi l'altra sera, secondo me ci hanno creduto veramente tanto. Sarà una serie di fattori. Guarda, basta riflettere su quel magico mese del triplete, quello che è andato dalle semifinali, d'andata con il Barcellona alla finale di Madrid, dove sembrava che tu non potessi perdere neanche se giocavi contro gli alieni, no? Era impossibile perdere. L'impressione era un carro, un treno in corsa, un unstoppable, come quel film che stanno passando su Sky. Un treno che non si può fermare, era quella squadra lì. E niente, questo fa la differenza. Certamente. Va bene. Lasciamo un po' la parte magari Zlatan adesso, Ibra. Parliamo un attimo. La fase difensiva forse è stata una delle cose che ha convinto di più della partita contro il Milan. Abbiamo preso tre gol solamente nelle ultime partite, quella difesa veramente, diciamo, anche presa in giro forse addirittura sui giornali. Io volevo farti una domanda. A te qual è stato il giocatore, il difensore che ti ha convinto di più nella partita contro il Milan? Certo sarebbe fare un torto a qualcuno, però il fatto che non abbiamo mai più giocato i derby con Samuel e Lucio, adesso sì, credo che sia determinante. Io ho una grande passione per Samuel, perché non parla molto, perché non lo si vede molto, sai fare, però quando c'è, si capisce perché gli ha dato quel soprannome. Ricorderei anche le parole di Lucio nella tu per tu che ha preceduto il derby, nel quale diceva io e Samuel in realtà non abbiamo bisogno di parlare, ci capiamo al volo, basta guardarci e capiamo già cosa dobbiamo fare. Quindi è un qualcosa, è un connubio, insomma è un qualcosa che si è trovato soltanto con il tempo e che solamente... È un miracolo, no? Un argentino, un argentino. Il grande campione. Sì, sì, quasi un miracolo. I grandi campioni, soltanto i grandi campioni. Io non so, so che qualche tempo fa, qua mi levo un sassino dalle scarpe, cara Maura, qualche tempo fa dei telespettatori ci avevano scritto criticando sia Walter, che era vecchio e bullito, sia Lucio, che ce ne sono tanti, anzi c'è qualcuno che spesso ci scrive ma Lucio, insomma è uno che prende palla, esce dall'area e lui fa quello che insomma tatticamente non è adatto a una grande squadra. Io credo che se a questo punto bisogna stare a giustificare Lucio, veramente, non lo so, cosa bisogna dire. Come ha detto Stankovic qua dallo studio, se devo dire che non vado al Milan riesco dallo studio. Cosa devo dire? Cioè una storia che parla per questo ragazzo. Io credo che loro due ai tempo risposi un giorno gli faranno una statua davanti al Meazza e tutti si sono messi a ridere e ho pensato uno come Samuel con quello che ha vinto qua, con quello che ha dimostrato nella sua carriera. Chi lo sa che tra una decina d'anni non racconteranno i ragazzini nelle scuole giovaniche dell'Inter, il più grande difensore, uno dei più grandi difensori dell'Inter si chiama Walter Samuel. Chi lo sa, la storia si vive sempre con grande ritardo. Ti ringraziamo Maura, che diamo un grande abbraccio. Vi saluto a tutti e alla prossima. Forza Inter. Buona giornata. Ormai ci ho preso gusto. Alla prossima. Sì, sì, va bene, va bene. Ciao. Dopo la ricetta tenderà ad attendere un pochino, dovrà attendere un pochino la brava Maura per avere la visita di Radiopiano a livello telefonico. Un po' di messaggi. C'è, messaggi. Continuiamo. Ce ne sono. Via. Via Montari e Kivu, Spazio e Ranocchia, Farogli e Poli, Centrocampo, a prendere uno tra Palombo e Montolivo, Castagnosso e Cuttino devono andare via in prestito. Zarate va girato tipo alla Fiorentina e poi per prendere Vargas per quest'estate comprare Torres, Iguain e Super Mario e magari anche Gbon. Sai cosa? Elia Scani. E lui, Faria Scani. Io quello che penso è che sì, ok. Ci sono dei tifosi che amano il calciomercato più del calcio stesso. Tu ti metti davanti a FIFA e cerchi di fare queste cose e non riesci neanche. Tra l'altro perché non riesci. Però nel senso, nella realtà è ancora diverso. Non si può fare un mercato. Ci sono dei tifosi che amano di più il calciomercato del calciomercato nel senso che quando guardano le partite ragionano più che altro su chi vorrebbero al posto di quelli che sono in campo. Kuska non è da Inter scrive Romolo Peruzzi che di solito è molto tranquillo e sereno, equilibrato nei giudizi. Oggi lo sento molto duro. Diretto. Sì, molto diretto. Dice Tevez è bravo ma costa troppo. Se devo spendere quei soldi li spendo per Lucas. Ti ho risposto prima caro Romolo indirettamente. Secondo me Lucas se vuole rimanere in Brasile fino a giugno non verrà mai via dal Brasile a meno che non vada a Real Madrid o Barcellona a sostituire per chi non riesce a prenderlo Neymar. Nel senso che uno delle due prende Neymar e l'altra prende Lucas. Perché se Lucas va via adesso allora si può fare l'affare. Se va via a settembre io scusami a settembre io proprio non credo che possa ma neanche in Italia può venire perché se lui fa quello che promette voglio 30 milioni di euro per Neymar non penso 35 40 addirittura non penso che arrivino a prendere di meno per Lucas. Comunque vogliamo mi raccomando perché dico che ha scritto maniera dura perché dice non dobbiamo rimanere con un pugno di mosca in mano. Grazie a tutti.